Ciao a tutti e bentornati nel mio video settimanale. Oggi vi illustrerò uno dei miei ultimi acquisti dell'anno scorso, la MP3 LED Magic Ball Light, che in pratica è una palla luminosa con dei LED con la quale puoi ascoltare anche la musica. Sono le luci che fa, comunque poi vi farò vedere. All'interno, telecomando, chiavetta, Bluetooth, infrarossi, USB, dentro c'è la scheda. Ecco, diciamo, il primo lato negativo che ho trovato è che il cavetto è un po' corto. E ora passiamo alla prova pratica, così potrete vedere tutte le funzionalità. Ora inseriamo la chiavetta. Ora inseriamo la chiavetta. Ora inseriamo la chiavetta. la chiavetta. Abbassiamo. Abbassiamo. Per una buona distanza. Ok. Adesso, alziamo. arrivato al massimo non ho ben capito il telecomando con i numeri come funzioni però per il resto va abbastanza bene inoltre c'è la possibilità di collegarlo tramite l'unica cosa che è un po' basso è perché il telefonino è vero grazie per l'attenzione vi do appuntamento settimana prossima buona settimana ciao